ed eccoci qui di nuovo su il gladiator è da troppo tempo che non lavoro più un episodio simile perché come tutte le altre serie me ne sono dimenticato ma come tutte le altre serie tornerà più in fretta che mai ecco qui storia dove eravamo rimasti tutte le serate portano a roma amico mio è bello essere di nuovo qui è bello essere di nuovo qui si cazzo sarà un mese che non porto un episodio non mi sembrano difficili simili achievement comunque acceleriamo non mi ricordo più che devo fare la combo da nove colpi da gran maestro bip e al primo colpo e la madoma sono fortissimo la prima combo riuscita e vai soldissimi non poteva cominciare meglio questo episodio spero che non finisca in modo tremendo assi 1 vai giù devo attirarlo lo stesso si essi come ma spiega calcio all'aria mi raccomando funzionerà sempre avvicinati brutto brutto si è colpa beh padre che non è che vanno dalle artisti qua l'ha colpito può solo farli bene nope stessa avversario tre volte due tre quattro faccio fuori a quanto vedo scudo insegnato non mi interessa però i soldi sì che mi interessano veramente mai più la più la avanti 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 bravo bravo ma fa dei ganker allora no qui 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 mai più la più la un po più la hai la sul palo la sul palo vedi il palo sì ma non dovevi devi uccidere anche me tu tu che mi sembri piuttosto io devo lungarlo e va bene no 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 qua non va qua non va sto perdendo tutta la vita e quindi to entra nella macelleria entra qui 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 gladiatore qui gladiatore bravo bravo resta lì fatti uccidere come un deficiente l'ho ucciso uccidilo uccidilo due ne ho uccisi ma no sono mortissimo fuori no 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 fermo 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 grazie per la pazienza e allora tu con il martello da adesso sei mio amico mi ha salvato la vita qui chiunque tu sia vieni qui no ti colpirò io perché io devo uscidere a te non te non te devi uscidere a me sennò sarai uscitato tu il protagonista non funziona qui da vicino deve funzionare badaboom impalato lì vedo una tagliola le tagliole di solito sono amiche dell'uomo ma dell'uomo che è in prigione no dell'uomo che questo qui deve essere però ben smacciullato però prima che funzioni non sanguina grazie prima che funzioni però deve essere bello indebolito qui qui o sono mica stupidi e no e salta in me o e la madonna era così difficile intarsi e basta da fare un passetto ok non è mai nulla di buono quando si entra qui o è un boss o è peggio spero non sia uno le orde non sono mai capitate chissà cos'è un video video questo essere qui non mi rassicura vabbè uno due e già due colpi dei mancati questo mi sembra parecchio e che cavolo sono morto almeno stavolta sono full vita vediamo se ci riesco a farcela se ci riesco a farcela che italiese di merda ah ah sanguinamento quindi non potrei scappar oh siamo cominciato bene abbiamo cominciato davvero bene in prima siamo morti subito che c'è anche un mattimento di merda era e l'abbiamo anche fatto fuori ma sono io che faccio schifo o era lui che era una cazzata ma non puoi portarmi di meno mi basta che mi danno i soldi e tutti gli achievement fatti da tenere a mente pensavo che quella montagna d'uomo ti avesse schiacciato cadendo mi sono rovesciato il vino sulla tunica si è rovinata è bravo rovescia il vino ovunque sembrerà un po meno difficile questa qui dato che devo smembarlo per sé questo qua è a mani nude che cosa fa a mani nude ma questo qua pensa di andare in un combattimento o dove pensa di andare a fare le risse in fiera vabbè non sono problemi miei finché non sono io a mani nude non me ne può fregare di meno certo che sei resistente beh ancora sei una merda mi muore sotto le mani devo essere io uccidere tutti non voi che vi ammazzate da soli ok spero siano un po meno stupidi questi qui è sparito il cadavere eccolo qui ecco il primo devo smembrarvi mi raccomando e tra che questo conta come smembrato vero e questo questo mi sembra un po più come non detto smembrato e versare il fatto grido di gloria di livello 2 devo non devo subire danni devo mantenere 70 per cento di salute quindi non devo ma mi ascolti quando parlo tu devi lasciarmi vincere wow l'ho mancato però va sicura che stupido che sono l'ho lasciato no no le mie armi si spaccano dopo un po cosa dovevo fare ah già il grido di guerra non di gloria non di guerra vabbè spero se ne siano ancora di qua o no chi c'è qui ah non ci sonissimo con una mazza quella mazza è forte però anche lo scudo non vale non vale ora è fortissimo lol no non farmi male non farmi troppo male wow me ne toglie di vita me ne toglie di vita e ammettilo ammettilo che mi toglie vita vabbè non potrei più ammettere dopo questa azione oh cavolo è sopravvissuto se faccio un criticissimo chi è wow solo lo scudo no 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 devo andare a curarmi posso grazie dove sei tipo thank you vuoi compare no l'ho presa cazzo ho buttato tre di oro non avevo visto e ci era era quasi essenziale non possiamo lamentarci grido di gloria per tre volte l'ho fatto vero sì sì che l'ho fatto ma scusa vabbè lo farò nel tempo libero hai un bel divido rufus è il momento di comprare un'armatura nuova è una cattiva idea quanti soldi ho non ho abbastanza soldi per un'armatura nuova le vendi a troppo ma non ho visto non mi ricordo più le ciment ma non penso siano difficilissimi non mi ricordo più come wow devo schivare se non sbaglio ora e muore e muore no c'è il tempo ci penso io ci penso io fermi lì fermi lì che voglio farvi una foto fotina fotina mo mo crepi si ci sta crepando ci sta crepando sotto è morto perché mi hai colpito io sono tuo alleato io sono tuo alleato stronti no no si bra si è passato allora ci è passato in mezzo ma non è morto dopo che ci è passato si è accorto e ha subito danno che si si questi bug questi bug vabbè spero di far fuori gli a stai morendo dimmi di sì fortissimi ma ok no mi è mancato dai no mancato ancora no e si dai no quelli con la lancia sono difficili da schiva schivato hai schivato con successo zero cosa ho subito danno mi ha tirato il calcio e dopo che mi ha tirato il calcio sono caduto ok è un po un casino sbagliato e si va bene ma stai qua non posso schivarli sono troppo veloci sbagliato scusa vabbè ok 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 questo lo stradisco perché qui non si finisce più se no e via quanti ne mancano spero almeno almeno tre se no non ce la farò mai a schivare c'è anche il limite di tempo è una maratellata sulle palle al limite di tempo ma dove va ma dove va sto qua deve combattere con me sai se n'è andato se n'è andato gli faceva schifo la vita e se n'è andato no questo qua deve essere stordito anche tu devi essere stordito no 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 quello la è morto tu devi essere stordito vero vero mi è arrivata una spadata ma lascialo colpire dai è il suo primo giorno o almeno penso ma quelli di quelli di pippetta no quelli con la mazza sono anche stata a schivare ecco perché quanto ho fatto quanto ho fatto due volte non male su 30 colpi che ha tirato mi dice che ho schivato due volte lol mancato dai 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 ti lascio ti lascio il bonus 1 2 vai vai mancato perché non mi da wow me l'ha dato era ora no ok ok è tempo di fare sul serio ma solo adesso dobbiamo fare sul serio potremmo farlo anche prima sto qua sto qua con la lancia mi dà un fastidio to ed è crepito anche tu crepiti a muore da sanguinamento è tutti che muore da sanguinamento qui boss no 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 qua mi serve la vita compra vabbè o per 135 denari ci posso anche fare uno strappo la regola basta e prima ho buttato via 3 di oro li ho buttati tenete i miei ori che già ne ho pochi chi è il boss qui? l'ennesima montagna che stavolta la montagna ha una mazza e un elmo bello figo quell'elmo e quanta stamina c'ha? ha tirato tipo 60 colpi in due se... no non ce la faccio non ce la faccio guarda il limite dai colpisci mi cazzo non ce la faccio non ce la fa e se mi lasciasse colpire cazzo e ci provo anche questa volta sarà se non la cinquantesima vabbè questo qui è immortale sta cosa non è un umano è una cosa non è possibile che sia così resistente il tiro spazio cioè con una spadata io lo conficco 70 vol... niente niente non fa una smorfia e continua a colpirmi tipo questo però sanguinamento mi è piaciuto vai 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 o lo stiamo scalfendo addirittura stordiccilo e la chiave per questo qui è stordirlo dunque mi raccomando tenetelo a mente se non potete fare la mia... tutte le mie fi... tutte le volte la stessa fine che ho fatto io ah l'ho fatto cadere... vabbè io ora le faccio un critichissimo male... 250 tipo un millesimo della vita che aveva mancano altri 70 colpi per farlo fuori a parte gli scherzi forse ce la stiamo facendo stordiscilo dai che va dai che va critich... cazzo va bene ancora un minuto per farcela eh ma devo fare... non uccidermi ora non uccidermi ora vado a due colpetti... no adesso vado a due colpetti se no... se no ah è durissimo questo qui la montagna ti sta bene come nome e dai e crepaci sotto e che cavolo e finalmente è caduto cazzo 30 volte l'ho incontrato 30 volte mi ha massacrato no 29... vabbè gli achievement li ho anche mandati un po' a fanculo eh e niente sono costretto a finirlo qui l'episodio perché ho il telefono scarico e sono 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 stressato con con convulsioni multiple mentali perché trenta cinquanta volte ci ho provato contro questo qui alla cinquantunesima ce l'ho fatta quindi se cercate un po' di capirmi comunque il prossimo episodio però farò tipo un tutta una... si in un momento li farò lo stesso ma farò tutta una run fino al boss di questa area che si ci sono anche i boss cinquanta episodi senza boss al cinquantunesimo ci sarà il boss no? e niente finisco qui l'episodio e continuate a seguire questa serie e tutte le altre ciao a tutti